200 le candidature già avanzate per 118 posti disponibili offerti da 41 aziende del territorio bellunese. Sono questi i numeri relativi alla fase di preselezione per quanto attiene alla provincia di Belluno di Incontra Lavoro, l'iniziativa di reclutamento promossa dalla Regione Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con Alma Laurea, giunta ormai alla quarta edizione. L'appuntamento si terrà il 13 novembre in tutto il territorio regionale per facilitare l'incontro fra le aziende del territorio e le persone alla ricerca di un'occupazione. Al momento sono oltre 1.500 le offerte di lavoro già raccolte in Veneto per l'occasione. Il numero è destinato a crescere visto che le aziende possono ancora aderire. Nelle tre passate edizioni, è evidenziato l'assessore regionale a lavoro Elena Donazzanna, Abbiamo riscosso una partecipazione superiore alle aspettative con ottimi riscontri sia da parte delle imprese che dei candidati e ad un anno dal varo il meccanismo è ormai oliato, ha concluso Donazzanna. Fra le figure di più difficile reperimento ma anche maggiormente richieste, vi sono per la provincia di Belluno il personale specializzato nella meccanica, periti informatici e sviluppatori di software, disegnatori meccanici addetti al marketing e alla statistica, nonché educatori professionali. Nell'ultimo appuntamento di maggio, per quanto attiene al centro per l'impiego di Belluno, 58 sono state le aziende partecipanti, 400 le candidature avanzate, per 70 posizioni disponibili. Il 30% è andato a buon fine, permettendo agli interessati di trovare occupazione. I disoccupati che intendono partecipare alle preselezioni possono contattare il centro per l'impiego o candidarsi direttamente online sul portale Clicca Lavoro Veneto. Grazie. 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 Grazie a tutti